57 anni di storia industriale, il penultimo dei quali segnato dal maggior tasso di crescita. Il gruppo VAG, fondato dal Cestevitre che oggi riunisce i tre marchi Rivacold, RAV e Vitrifrigo, ha presentato oggi i risultati di un gruppo da 15 siti produttivi su Vallefoglia. Gruppo reduce da un 2022 con un fatturato record da 341 milioni di euro e che naviga in un 2023 condizionato dalla complessa congiuntura fra aumento dei prezzi energetici e tensioni internazionali. Siamo passati negli ultimi tre anni da situazioni sicuramente diverse fra di loro, iniziando dal 2020 con l'anno del Covid, quindi un fermo quasi totale per poi prendere una ripresa piuttosto veloce e arrivare appunto al 2022 con l'anno record. Questa crescita è sicuramente stata una crescita, penso anomala per tutti i settori che ha portato con sé alcune problematiche tipo inflazione, aumenti dei costi delle materie prime, poi ci sono aggiunte problematiche internazionali che hanno sicuramente complicato l'anno successivo, che è quello del 2023. Per Alcestevitri, che a giorni compirà 80 anni, è un'incessante sfida d'adattamento ai mutamenti del mercato. Abbiamo sempre pensato all'azienda, sempre pensato agli investimenti da fare per poter essere sempre all'avanguardia, specialmente negli ultimi dieci anni. Ad oggi siamo 1.700 dipendenti, quindi l'azienda sicuramente ogni anno ha assunto, si è sviluppata, siamo stati penso anche bravi perché in tutti questi anni di attività non abbiamo mai avuto momenti di crisi, di rallentamenti e questo anche perché proprio abbiamo sempre investito all'interno dell'azienda, quindi abbiamo investito sia in immobili, costruendo ogni anno anche Cappannoni, ad oggi abbiamo 160.000 metri quadrati coperti solo qui a Vallefoglia di stabilimenti. Anche con il supporto del nostro laboratorio che abbiamo qua siamo in grado di realizzare prodotti ecologici, prodotti che rivolgono alla digitalizzazione, quindi sono prodotti all'avanguardia e questo ha sicuramente dato parecchio supporto per raggiungere a questi obiettivi record. Penso che la nostra forza è sempre stato il valore che ci ha insegnato nostro padre sul lavoro, sulla serietà, sulla responsabilità e che abbiamo anche poi tramandato, spero, a tutti i nostri dipendenti. Un gruppo industriale volutamente radicato nel tessuto sociale di Vallefoglia. Nei periodi in cui le aziende hanno delocalizzato ci abbiamo pensato anche noi, ma poi perché siamo rimasti qui? Perché siamo fortemente legati a questo territorio. Ci sono tanti ragazzi che neolaureati, neodiplomati, che cerchiamo di far venire a lavorare da noi per insegnargli un mestiere, come ha sempre detto mio padre, e per dare a loro una possibilità di potersi sviluppare professionalmente. La sfida è ora quella di un futuro complesso in cui navigare a vista. Giorno per giorno, settimana per settimana, perché non c'è una programmazione. Tutti quelli che hanno qualche impianto da fare, qualche lavoro da fare, aspettano l'ultimo momento e perciò non c'è una programmazione. Noi cerchiamo di starli vicino ai clienti, cercare di aiutarli perché è il nostro capitale. Quello che c'è è lavorare, accontentare il cliente, che anche loro economicamente soffrono tutti in questo momento, acquistano all'ultimo momento. Acquistando all'ultimo momento i problemi ci sono perché il lavoro è abbastanza complesso. Complessità del momento che costringerà verosimilmente al ricorso di alcune ore di cassa integrazione previste per un massimo di un giorno alla settimana nell'ultimo trimestre dell'anno. Speriamo innanzitutto di non doverla usufruire, quindi sicuramente siamo un'azienda legata al territorio, ci teniamo a fare in modo che tutto vada per il meglio. Abbiamo già purtroppo in questo anno molte società hanno congelato gli investimenti e li hanno spostati per gli anni successivi perché chiaramente costa tanto oggi costruire qualsiasi tipo di stabili, case, supermercati. Nel nostro settore specifico il mondo supermercato ha bloccato un po' tutti gli investimenti, almeno per questo anno perché appunto per il costo elevato e quindi presumiamo che il prossimo anno ci sia un'inerzia sicuramente diversa e che riporterà, mi auguro, a delle normalizzazioni del business.